Kanyaman e Dimet Özdemir hanno guadagnato grande popolarità sia in Turchia che a livello internazionale con la serie TV e Erkenci Kus in cui hanno recitato insieme. Nel periodo 2018-2019 in cui la serie è stata trasmessa, hanno raggiunto un'ampia base di fan grazie alla loro armonia ed energia sullo schermo. Hanno formato un legame così forte tra il pubblico che è stato a lungo oggetto di dibattito se avessero una relazione nella vita reale o meno. Ecco uno sguardo dettagliato su cosa è successo tra Kanyaman e Dimet Özdemir. Erkenci Kus è stata una serie di commedie romantiche ed è diventata un punto di svolta nelle carriere di Kanyaman e Dimet Özdemir. Kany interpreta il personaggio di Ekan Divit, il titolare dell'agenzia pubblicitaria, Dimet ha interpretato il personaggio di Esane Maidin, un creativo e sognatore. La relazione romantica del duo nella serie è stata una parte importante del successo della serie. La loro chimica, la naturalezza e l'energia di Kany e Dimet sono state molto apprezzate dal pubblico. La loro armonia davanti alla telecamera è rimasta indimenticabile anche quando la serie è finita. Dietro le quinte, foto, video e interviste dal set hanno rivelato che i due non erano solo colleghi ma anche una profonda amicizia. Una delle domande più frequenti durante e dopo la serie era se Kanyaman e Dimet Özdemir fossero amanti nella vita reale. Entrambi i partiti inizialmente hanno scelto di non fare una dichiarazione chiara su questo tema. Tuttavia, i resoconti dei media suggerivano che i due avessero avuto una relazione romantica per un po'. Dichiarazioni di Dimet, Dimet Özdemir ha detto in un'intervista che erano ottimi amici di Kany e si sono divertiti molto sul set. Tuttavia, ciò non ha impedito che emergessero voci sul romanticismo. Le parole assertive di Kahn, le successive parole di Kanyaman in un'intervista alla stampa italiana, dovresti avere energia con il tuo partner e dovrebbe esserci elettricità tra voi, hanno ulteriormente alimentato le voci. Queste dichiarazioni sono state interpretate da alcuni fan come una confessione di relazione. Dopo la fine della serie, è stato affermato che la relazione tra Kanyaman e Dimet Özdemir era finita. Nessuna delle due parti ha fatto una dichiarazione chiara su questo tema, ma era chiaro che le loro strade si erano separate. Dopo la serie, Kanyaman si è concentrato sulla sua carriera e ha ottenuto un grande successo in Italia e lì ha preso parte a vari progetti. Dimet Özdemir ha continuato la sua carriera in Turchia e ha preso parte ad altri progetti. Situazioni a distanza sui social media Dopo la separazione è stato interessante notare che hanno interagito meno tra loro sui social media. I due, che commentavano spesso i post degli altri e condividevano foto, hanno scelto di rimanere in silenzio durante questo periodo. L'espansione italiana di Khan, Kanyaman divenne famoso in Italia e iniziò ad avere una storia d'amore con un avvocato che viveva lì. Questa situazione è stata interpretata come una prova indiretta che non esisteva alcuna relazione tra lui e Dimet. I fan che hanno saputo che Kanyaman e Dimet Özdemir non stavano insieme si sono divisi in due, soprattutto sui social. Mentre alcuni fan volevano che stessero insieme nella vita reale, altri li hanno supportati concentrandosi sulla loro vita professionale. Fan di Erkenchikus, i fan della serie vogliono ancora vedere Kanyaman e Dimet insieme. Sulle piattaforme dei social media si chiede ai due di prendere parte nuovamente a un progetto insieme. Reazioni alle voci sulla rottura Nonostante le notizie sulla loro rottura, alcuni fan credono che i due un giorno torneranno insieme. Dal 2024, sia Kanyaman che Dimet Özdemir continuano per la loro strada. Mentre Kanyaman è diventato una star internazionale prendendo parte a grandi progetti come Essando Kanyan in Italia, Dimet Özdemir continua a recitare in popolari serie televisive in Turchia. Interviste di Dimet, Dimet ha dichiarato che preferisce non parlare molto delle sue relazioni passate e ha scelto di concentrarsi sul suo lavoro. Dichiarazioni di Khan, Khan, d'altro canto, si è rivolto maggiormente a progetti internazionali grazie alla popolarità che ha guadagnato in Italia. I media turchi menzionano spesso la relazione tra Kanyaman e Dimet Özdemir. Tuttavia, entrambi gli attori sembrano preferire essere ricordati per la loro carriera piuttosto che per le loro relazioni. Speculazioni. La maggior parte delle notizie pubblicate sui media sono speculazioni e non contengono informazioni definitive. Strategia del silenzio. Siak e anche Dimet preferiscono non parlare molto della loro relazione, mantenendo la loro vita privata lontana dal centro dell'attenzione dei media. Anche se non è confermato se in passato ci sia stata una relazione romantica tra Kanyaman e Dimet Özdemir, la loro armonia e vicinanza dalla serie ha lasciato una forte impressione nella mente dei fan. Attualmente, entrambi si stanno muovendo in direzioni diverse nella loro carriera e stanno aumentando il loro successo con nuovi progetti. I fan continuano ad attendere con impazienza la possibilità che questi due attori di successo si incontrino di nuovo un giorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.